Se la Spagna ha vinto il campionato europeo è perché al momento è la squadra più tecnica del vecchio continente. Il calcio è cambiato, oggi la potenza fisica degli atleti è aumentata, ma sono diminuiti gli spazi in campo. Il Bari non solo sta prendendo i migliori giovani in circolazione, ma anche quelli che gli spazi li sanno sfruttare al meglio. Queste le parole del direttore sportivo Perinetti, che oggi insieme al presidente Matarrese ha presentato la stampa altri quattro arrivi. Si tratta di Simone Bonomi, terzino sinistro, 28enne e contrascorsi nel Siena, di Matteo Lanzoni, possente difensore classe 88 proveniente dalla primavera della Sampdoria. Presentato inoltre Emanuele Rivas, versatile attaccante argentino, che può giocare su entrambe le fasce. Col Bari ha firmato un contratto quadrennale. E poi Felipe Monteiro, gioiello brasiliano dell'Udinese, il centrocampista impressionato Conte Avasto. Conosciamolo meglio questo ventenne che ha già un soprannome. Felipe Diogo, centrocampista, questo è il ruolo che le piace di più, però il Bari ha fame di una seconda punta. Non le piacerebbe come ruolo? Sì, sì, mi piacerebbe troppo giocare anche lì. Però il centrocampista, secondo me, va del mister. Se il mister lo dice di giocare in punta, gioco lo stesso. Sodinia, lei ha detto, è una bevanda tipo la Coca-Cola. Quindi da lei ci dobbiamo aspettare tante bollicine quest'anno? Sì, speriamo, speriamo. Voglio fare bene e con questo nome voglio che mi arrivo a Serie A. La maglia? Avrà già il numero? Già lo sa? Ma comunque è chiaro una cosa, sarà sodigna? Sarà sodigna? Il numero ancora non so. Ma a me mi piace 69. Grazie.